ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodione dedicato ai vostri orologi dedicato ai vostri orologi a voi e ai vostri video insomma voi diventate i protagonisti in generale di questa rubrica ci mandate i video possibilmente in orizzontale possibilmente inferiore ai sette minuti e poi noi li guardiamo qua tutti assieme ci facciamo un po una cultura una cultura alternativa sugli orologi che esistono su come poterli collocare nella propria collezione perché alla fine è sempre quello l'obiettivo no bello guardarli quelli degli altri ma poi alla fine c'è quella scimmietta in fingarda che si è appollaiata sulla spalla sinistra sta sempre lì che guarda e poi dopo quando ne vede uno che gli interessa sgrana l'occhietto e ti bussa qua dietro e ti dice quello lì mi piace e se piace a lei piace anche a te e allora incomincia tutto l'ambaradan della ricerca dell'orologio da mettere in collezione adesso ecco una cosa importante da dire è bello guardare gli orologi degli altri no però è anche bello farsi un'opinione propria nel senso che è bene soprattutto se siete dei neofiti iscriversi a tutti i canali possibili leggere tutti i forum possibili informarsi il più possibile e farsi un'opinione propria cioè siete grandi e vaccinati sapete da soli come farvi un'opinione discernere il giusto dal cattivo nel buono dal bello il brutto dalla botte ubriaca capito quindi iscrivetevi a tutti i canali anche quelli che magari ritenete un pochino più amatoriali un pochino monotematici un pochino tristi come i documentari sulle tre poi vi fate un'idea voi perché il fatto di come fa qualcuno di dire di disiscriversi dai canali è un po come dire come voler bruciare i libri come è il primo passo verso il totalitarismo capito quindi pluralità di contenuti di opinioni e poi voi fate la vostra o come sono contento di aver detto questa perla di saggezza no adesso bando discorsi inutili no no prima vi faccio vedere l'orologio del giorno che oggi è questo simpatico bright link ronomat gmt 40 mm di diametro cassa il quadrante blu soleil il suo calibro di fornitura derivato dall'eta 28 92 28 94 no è bello col bracciale rollo ho detto anche a cartucciera per chi non conosce il francese e quindi a noi ci piace tanto e ce l'abbiamo dai passiamo al primo videino così guardiamo un po di orologi un po di pluralismo di orologi da ciao davide sono da roma a stefano avrai probabilmente capito chi sono da essere la mia passione principale sono gli scacchi e oggi vorrei farti appunto vedere gli ultimi acquisti va quindi un aggiornamento sostanzialmente della mia raccolta di orologi ok partendo da due vintage precisamente ballo da un omega deville 35 mm di diametro cassa anni 70 e questo qua è il dress watch perfetto guardalo lì cassa oro senza lancetta secondi 35 mm minimalismo questo qua è un pochino come il mio longin 30 l no fatto così oro bianco bello 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 tanta acciaio ed oro calibro dovrebbe essere il 625 calibro automatico yes orologio veramente sottile molto elegante e che mi ha affascinato appena l'ho vista per forza l'altro vintage cos'è è uno zenith grono stellina full gold anche questo anno di produzione dovrebbe essere del 1950 il 1959 diametro cassa 37.8 mm calibro 156 zenith universal genev non avevo uno zenith nella mia raccolta e appena l'ho visto non ho potuto fare meno di comprarlo la scipietta è stata veramente molto bello mica te qua abbiamo due orologi moderni però dal sapore vintage e somma vintage vabbè qui abbiamo un mito multi fort big date sappiamo che è un rimedio rifacimento un punto di un vecchio modello della mito ho preso con questo colore grigio che è veramente splendido e acquistato anche questo cinturino originale oltre al bracciale spendi i soldi cinturino che trovo molto comodo indossare durante l'estate bravo durante l'estate e poi l'altro orologio nuovo però dal sapore vintage è questo seiko 5 sport heritage limited edition dovrebbe essere il modello rs rp l 09 sono rimasto stregato dalla bellezza diciamo ma certo e dall'ottimo rapporto chiaramente qualità prezzo molto bello anche molto bello racciale sicuro simil cartuccera no simil cartuccera no e con questo avrei terminato bravo sono stato credo abbastanza rapido quindi ti faccio un caro saluto chiaramente a te esteso a tutti gli amici del canale bravo ciao a presto ciao 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 non capisco perché mi hai messo dalla parte del nero dei neri a giocare a scacchi perché sai benissimo che anche partendo per secondo io riuscirei a batterti e questo va bene allora la tua collezione di un bel 8,5 voglio esagerare 8,5 perché due vintage due signori vintage nella collezione l'aggiornamento però do il voto anche l'aggiornamento due vintage con i contro scatoloni come si suol dire uno zenith cronografo e un omega dress watch veramente che tutti vorrebbero avere in collezione o tutti nel senso di qualunque persona sana di mente garberebbe avere quegli orologi lì e poi dall'altra parte un bel seiko 5 sport con il bracciale così che sembra quasi quelli elastici non è a cartucera sembra ripreso da quelli proprio degli anni 70 elastici che funzionavano così e il video tv big date che io ho recensito nella versione quella con il monoscopio al centro che mi è piaciuta o lì per lì non volevo nemmeno recensire tanto sgargiante che era poi quando ce l'ho avuto in mano come disse cicciolina è è piaciuto è piaciuto otto e mezzo perché con c'è senza far mostrare una capacità di fuoco da mille mila dollari no e c'hai preso quattro orologi che sono veramente la ciliegina sulla torta come si suol dire no quando si mangia la torta la ciliegina no è quella che insomma quello volevo dire bravo otto e mezzo bel bel orologi prossimo video ciao davide sono simone ciao il secondo video che ti mando e niente volevo mostrarti un po la mia collezione intanto guardiamo qua che hai tre fotocamere piazzate lì probabilmente io non me ne intendo perché c'ho una mezza ciofeca qua canon eos m50 così per gli amici che volessero sapere cos'è e quella quindi queste qua invece sono vintage quindi esiste anche un mondo di appassionati di fotocamere o macchine fotografiche vintage è se questo si sapeva però è sempre curioso capire la passione cosa ti spinge a collezionare o ad appassionarti da studiare ma bello vedrai che non ho pezzi pregiati per nulla però mi trovo abbastanza interessante ma va bene da comincere con il primo che è l'unico quarzo che ho in collezione con ripescato nel dal dimenticatoio che arriva sulla batteria a batteria azionare la cellula ha più di trent'anni questo orologio è costruito bene qua ancora sector forse ricostruiva bene ma sì sì addirittura il vetro zaffero l'ho usato tantissimo del ragazzino al bracciale consumato infatti ho dovuto prendere una chiusura da due euro su ebay l'ho fatto tornare a vivere niente di importante comunque ora io scherzo no vabbè tutto quello che vuoi a batteria però è un bel reperto archeologico del design degli anni 90 è così che funziona guarda se io ce l'avessi sarebbe sempre nel dimenticatoio da dove l'hai preso te perché poi dopo cioè a indossarlo sto qua mi viene l'orticaria a batteria è così un sector accio così però voglio dire ha sempre il suo perché a livello stilistico messo lì da parte però stilistico carino intanto l'indosso dopo di che questo seco 5 è un classico preso da poco molto carino piccolo veste bene molto leggero praticamente al polso si può dire che non si sente tra l'altro le dimensioni contenute aiutano anche indossarlo magari sotto una camicia devo dire che non è per niente male mi piace indossarlo ma sì per forza dopo di che ho questo citizen suiosa ho scelto la colorazione nera perché la preferisco un po più classica il bracciale veramente ben fatto così come l'orologio in realtà sì il movimento in stile dorato non sarà una sciccheria però non si vede quindi chi se ne frega ma sì è davvero molto bello lo trovo davvero fantastico fantastico trasmette comunque una sensazione di un qualcosa costruito bene certo restando sempre in casa citizen eccolo qua ora però è il festival del mainstream questo del visto è stravisto già visto e già il seco 5 detto explorer quello con i numerini sulla ghiera lo suiosa e il citizen pro master finora siamo veramente incanalati nel mainstream del no dell'ovvio capitano ovvio però va bene cioè per l'amor del cielo il classicone dei classiconi citizen pro master full loom con cinturino nato verde militare bravo mi fatto scoprire questa cosa del tagliare la parte che passa sotto doppia e devo dire che è stata una svolta perché cambia completamente la non tanto l'aspetto quanto la portabilità del reloggio sono l'inventore perché io sono un inventore no è questa cosa qua il problema che è irreversibile perché tagli però una volta che preso la decisione che ne ha provato uno ti rendi conto che insomma l'orologio sta al polso più attaccato al polso e dietro la chiusura ti viene praticamente al centro come fosse una chiusura normale e hai sempre la stessa comodità e la stessa sicurezza della versione originale del nato capito in questo modo è veramente veramente comodo quindi grazie per la dritta prego un orologio che a me piace molto lo indosso tanto soprattutto adesso l'estate comunque nella morte sua devo dire che anche piuttosto preciso non sto mai a calcolare quanti secondi mi perde al giorno perché non me ne può fregare di meno però vedo che comunque dopo qualche giorno di utilizzo controllo magari l'orario col telefono e vedo che praticamente ancora lì non devo regolarlo quindi va bene così non sono mai ora l'unica l'unica appunto del controllare la precisione secondo me quando uno compra un orologio nel momento in cui lo compra deve controllare perché primo se si tratta di un orologio magari certificato o di pregio io desidererei che rientrasse nei suoi parametri per il quale è stato costruito no se è cosco rientri lì se di pregio che rientra lì e secondo anche se non è di pregio che non che ha uno scarto giornaliero più ampio che funzioni perché se io l'orologio non lo controllo lo utilizzo per tot mesi per modo di dire poi non li cambiamo soprattutto perché non li cambiamo spesso non mi rendo conto che magari non sta tenendo il tempo mi passano due mesi prima di mandare un garanzia di fare il reso no quindi la prima cosa è accertarsi che funzioni correttamente entro i parametri prestabiliti dalla casa o dal venditore è tutto lì che va controllato per quel maniaco della della precisione quindi per me è perfetto perfetto dopodiché ho preso questo vostro figlia scuba dude con il suo movimento questo qui se non mi sbaglio il 24 16 legge ho scoperto gli orologi russi non da molto devo dire che per il prezzo che hanno sì certo sono senza pretese però non mi dispiace ma funzionano bene esteticamente via pagano quindi va bene così a questo abbinato questo cinturino in cordura blu che secondo me non sta per niente male ma si ovviamente sia di questo che del pro master o anche il bracciale in acciaio però in estate sono un po più portabili secondo me con il cinturino ora sul discorso qua degli orologi russi ma è una vita c'è stato un periodo anche nella community degli appassionati non si faceva parlare altro che parlare di vostro can fibbia qua su giù e io ero arrivato anche a un punto di pensare che si potrebbe anche fare una collezione esclusivamente a parte magari una sottocollezione di vostro che di orologi russi anche contemporanei solo che c'è veramente una marea c'è veramente un sacco di configurazioni di quadrante di cassa però per quello che costano quello che offrono uno potrebbe anche divertirsi un casino ad avere tante orologine di questo tipo e alternarle uno con l'altro a parte quel problema che ogni dato salta fuori della ruggine sul canotto filettato della corona di carica che mi sembra di aver capito che c'è stato per un periodo poi hanno cambiato i tipi di materiale ma mi sembra di aver capito così e venitemi in soccorso voi che state guardando ma mi sembra poi non lo so se al momento cioè andrebbero anche veramente testati a lungo e in condizioni gravose il bagno al mare sarebbe tutto questo condizioni gravose andrebbero utilizzati per poi avere un riscontro perché spesso si comprano questi orologi appunto per mettere in collezione lì uno dietro l'altro non hanno mai visto l'acqua di mare quindi non saltano fuori magari difetti anche questo motivo per testare un orologio utilizzarlo vedere cosa succede sempre in casa russa questo vostro comandirsky ce l'avevo anch'io il 24 32 se non sbaglio anche questo messo un cinturino nato blu per avvenerlo al quadrante di questo ce l'avevo anch'io perché se ci fai caso questo qua è proprio la cassa in acciaio satinato è proprio come una ghiera lì in acciaio satinato mentre quello di prima mi sembrava la cassa cromata a volte hanno una cassa cromata questi orologi quindi è di ottone oppure un acciaio scadente cromato che c'è la sua protezione bella lucida te lo vedi lucido ma in realtà sotto sotto il tappeto c'è la polvere no questo qua invece è uno di quelli che è tutta la cassa in acciaio la ghiera in acciaio per quello che l'avevo preso poi con il daltareore 6 più simpatico questo apprezzo molto la ghiera in acciaio devo dire che è particolare si fa notare perché al sole lucica parecchio però mi piace mi piace indossarlo anche questo è un orologio che indosso molto spesso apprezzo molto il vetro plexi dei Vostok perché ha questa distorsione quando si guarda lateralmente che a me fa veramente impazzire e poi è facile da lucidare con un po' di dentifricio il cotone torna nuovo sempre sempre lucente ma c'è che è una cosa che apprezzo molto ultimo orologio cos'è il mio preferito preferito che si vede tantissimo anche sul suo canale il camasso ora il camasso al quale abbinato questo strap code in a chicchi di riso che secondo me lo rende ancora più bello di quello che già è è il mio orologio preferito lo trovo veramente veramente ben fatto è un po' pesante è vero però non lo so quando lo indosso mi piace proprio guardarla al polso oriente con questo modello secondo me ha veramente azzeccato e niente questo è quanto come vedi non sono tantissimi i miei a fare gli acquisti in funzione delle proprie disponibilità certo grazie di tutto e un saluto a te e a tutti gli amici del canale ciao 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 io ti do un bel sette tondo un bel sette tondo perché sono tutti orologi sui quali nessuno può controbattere può dire è no però questo no perché no a parte che non si può controbattere sulle scelte personali a prescindere però anche volendo essere no bastardini e non c'è nulla da dire l'unico appunto che ti si può fare è che sei molto dentro una comfort zone preconfezionata nel senso che hai la maggior parte degli orologi piaccioni piaccioni che sono approvati dalla maggior parte degli appassionati no il pro master il kamasu poi cosa c'era all'inizio lo tsuyosa secco 5 insomma tutti orologini comfort zone però va bene sei promosso sei promosso con un bel sette su questo non ho nulla nulla da dire volevo aggiungere qualcosa sul discorso lì degli orologi russi che nel loro piccolo hanno anche anche una certa personalità identità che poi possa piacere o meno ce l'hanno qualcuno magari li modda anche gli mette un inserto una ghiera magari un pochino più occidentale più moderna come ho fatto io ho fatto anch'io sul mio affibio l'ho fatto e però si va un po' a snaturare è meglio resistere no al al fascino del moderno di farlo assomigliare agli altri e tenere le ghiere originali che sono anche un pochino diciamo sovietiche un pochino da regime comunista anni 90 però hanno perlomeno hanno la loro identità è il perché per quali per il quale si comprano ora mi è venuta voglia di portare un altro un vostro sul canale ma anche un pochi soldi lo prendo faccio una recension in cina a distanza di anni è una buona idea questa è una buona idea ciao davide ciao a tutti amici del canale dei contatori del tempo spero di essere veloce incisivo nei sette minuti e stasera volevo farti vedere farvi vedere la mia collezione principalmente vintage perché a me piace molto vintage è una passione che mi ha attaccato mio padre è quella degli orologi e poi dopo io ho iniziato a collezionare sto continuando e non credo che mi fermerò di orologi vintage ma partiamo subito proprio da un oggetto che mi ha regalato mio padre quindi questo per me valore molto affettivo è un eberhard un traversetolo la referenza da 21 016 carica manuale una cassa abbastanza importante io ho un polso un po piccino però sicuramente questo è un bello orologio deve essere un acciaio e un cinturino in cocotillo nero bravo veloci spediti spedito va adesso continuiamo con un le mani auti un fab swiss anni 50 che questo sono molto bellino certo sicuramente una cassa molto più piccola però mi piacciono le cose più piccine un cronografo manuale bello carino in acciaio poi continuo con sempre vintage bellissimo secondo me un vetta baby panerai chiamato anche guarda che spettacolo questi pallettoni con le sfere molto bene questa patina pazzesca questa cassa a cuscino però sinceramente non lo conosco non ho mai visto la prima volta che lo vedo o vedete che si vedono degli orologi però baby panerai esattamente perché cioè non comprendo non assomiglia in niente nella grafica nelle sfere nella forma della cassa forse la forma della cassa quella vedo sì magari può sembrare una cassa a bettarini ma no ma era ma nemmeno no rifuggo dal nomignolo baby panerai il bellissimo fantastico c'è la cassa così veramente bella bello ma la ghiera è originale così veloce un leap bellissimo che questo sempre su vintage il nautix key la referenza 18 40 03 un inca block non c'è alla lunetta girevole girevole bellissimo poi questa c'è un particolare elettromeccanico una cassa 37 anche il braccialetto originale bellissimo elettromeccanico significa che praticamente ha il bilanciere tradizionale che oscilla con lo scappamento o forse non lo scappamento no al bilanciere tradizionale però viene alimentato da un circuito elettrico elettronico transistor resistenze condensatori a così funziona funziona così cioè il cuore dell'orologio e quello che regola il tempo è il bilanciere la frequenza la da al bilanciere l'oscillazione poi il resto è elettronico è così poi vado avanti con brand un pochino meno conosciuti questo è un petit anzi le petit uno skin diver c'è un datario roulette molto molto bello questa ghiera fantastico e questo è il radio perché se non sbaglio prima degli anni 60 c'era solo il radio bellissimo anche questo movimento eta 24 52 fantastico guarda quanto è bello si facciamo una patina strepitosa poi guarda la lancetta dei secondi lolli poi bella bello 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 promosso poi poi sempre sui skin diver poco conosciuti loren anche questo è un oggetto guarda che lancetta c'ha guarda quella di delle ore come particolare come fa il triangolo era anche questa bellissima in bachelite datario sempre roulette sono belle vedere questi questi orologi vintage i diver vintage particolarmente in particolar modo perché l'inserto ghiera in bachelite poi hanno la ghiera bidirezionale cioè non esisteva ancora il concetto per il quale doveva essere unidirezionale no una sorta di sicurezza in più questo qua c'è una sfera una sfera delle ore che ha a delta a delta rovesciato anche se qua c'è il il datario rosso quindi ce l'ha roulette anche questo va bene non lo sappiamo bello bello complimenti bellissimo poi poi dopo il loren andiamo con quello più conosciuto omega c master 120 deep blue anche questo è un orologio secondo me è un fascino lo ritrovo molto molto bello ah sì c'è un perno che scappa c'è un perno che esce c'è un perno che poi continuiamo con questo secondo me caro Davide questa è una chicca c'ha scritto sulla allora guardate l'organizzazione così professionale degli amici del canale c'ha una busta una busta aperta probabilmente la bolletta della luce nel quale appena ha scritto tutte le caratteristiche degli orologi per ricordarsene e ce le fa anche vedere a noi e deve essere una cosa un pochino più occultata nascosta in modo che noi non non capiamo che stai leggendo da comunque ora che se ho fermato te lo dico nel bracciale c'era un pin che era uscito era fuori di tanto così quello lì se non te ne accorgi ti scappa e perdi l'orologio se lo dovessi mai indossare tu ti fa il tuffo diventa un dive per terra però e dopo sono volatili per diabetici andiamo avanti tutto il quadrante in porcellana è una chicca questa è un assegnato un maietec csa all'aviazione cieca bravo questo qua è nel 35 mi sembra o giù di lì e assegnavano l'aviazione ciecoslovacca aveva fatto un bando per avere degli orologi e avevano partecipato diverse case e hanno vinto diverse case non era solo Longin che faceva questo orologio qua infatti se voi cercate vedrete che c'è anche un modello di Eterna che era fatto così tartarugone hanno fatto la ridizione anche loro in questi anni e poi c'era anche un altro marchio Longin Eterna e ce n'era un terzo che non mi ricordo quale non mi ricordo quale comunque in tre fornivano l'aviazione cieco slovacca a bei tempi degli anni se non sbaglio 36 c'ho anche la certificazione di chi l'ho fatta vedere è veramente la storia che c'è dietro a miglior orologi mi fa impazzire ah certo vedi prima serie militare c'è cair forse il 36 fantastico fantastico questo è un bel topino eh si si glielo ho dato poi 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 altro orologio che adoro Brightling Ivy Timer referenza 46 questo è un stringetto chiamato anche il Miles Davis perché naturalmente lo indossava Miles Davis anni 65 fantastico anche questi tool watch violatore poi guarda anche questa fibbia originale Brightling bello un oggetto ma poi veramente versatile bravo poi andiamo un po' sul classico e anche questo a me inutile spiegarlo il Rolex Submarine è un 16 610 questo è un 2006 quindi è quello un pochino più recente e vorrei fare un upgrade perché vorrei venderlo e prendere un 5513 eh bravo eh sì perché se mi fai vedere tutta la collezione vintage degli orologi del 36 del 65 anche di marchi di pregio no è che il Rolex non può essere del 2006 dai ce ne vuole uno di quelli dei tempi che furono devi fare devi fare questo upgrade che per me ad esempio non sarebbe perché a me nell'orgeria un Rolex lo vorrei moderno o di secondo polso invece per te l'upgrade è andare indietro più indietro vai con un Rolex e più sei nel tuo nella tua zona cioè sono vintage fa vedere quello del 2007 ti ho dato il top per grazie alla ricevuta proprio chiaramente mi piace molto di più il 56 con una bella patina anche se questo è nostro fantastico fantastico e ora un'altra specialità della casa della casa cos'è un bel Rolex bubble back questo sì che è il 3372 oro ci sta ma guarda quanto è bene anche questo poi c'ha la ghiera sì la ghiera scusami la corona originale e la sua fibbia anche originale eccola qua il cinturino anche cinturino anche originale degli anni 49 49 ma questo è come ha fatto arrivare fino all'orologio anche sull'eleganza bellissimo bellissimo quindi tutto questo spero che vi piaccia la mia versione naturalmente non finisce qua continuerò 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 e continuerò e un saluto a tutti gli amici del canale ciao davide ciao 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 che bello che bella collezione di orologi vintage proprio allora io ti do un 9 ti do un 9 perché al di là del fatto che non è una collezione gigantesca con tantissimi pezzi no non è una collezione con da centinaia di migliaia di euro con i nomi altisonanti è una collezione che è dominata dalla passione per gli orologi diciamo la verità si sente che sei appassionato che c'è la ricerca dietro che ti piace proprio avere quell'orologino lì e decantarne i pregi e poi cacciano anche difetti però quindi li lasciamo da parte ti piace decantarne i pregi per quello che sono per quello che rappresentano e per la storia che c'è dietro 9 9 9 te lo do tutto e complimenti per gli orologi l'unico che stona un po' un rolex del 2006 siamo già negli anni 2000 è troppo moderno devi fare qualcosa riporvi il rimedio e trovare un submariner dei tempi che furono poi ce n'hai di spazio quando te hai durante il video ti sei premurato di affermare che la tua collezione non finisce qua che continuerai ma quando l'hai detto c'era la scimmietta qua che te l'ha fatto dire te non te ne sei accorto perché pensavi di essere conscio di quello che stavi dicendo padrone delle tue parole e invece era qualcun altro che ti stava guidando perché ti ha detto ho collezionato no no colleziono ancora ti sei corretto ma era lei hai capito era lei ciao davide sono francesco da milano questo è il secondo video che ti mando il primo l'hai pubblicato nel tuo video reaction del 2 aprile 2024 oggi volevo presentarti brevemente la restante parte della mia collezione iniziando da questo Gleisin Ironman mamma mia purist quindi che gira sulle 24 ore fatica eh effettivamente è un po' scomodo da leggere ma poi ti abitui è un po' scomodo da leggere poi ti abitui io vabbè a parte che bianco su bianco già è difficile per sé a zeccare dove sono le lancette poi è diviso in 24 ore una volta che ti sei abituato poi magari indossi uno di quelli a 12 ore e devi ricominciare tutto a capo cioè la vita qua diventa tutto un imparare a leggere l'ora si ritorna piccolino e diventa un ottimo orologio vetro plexi purtroppo purtroppo perché? ma lo fermo di nuovo perché vetro plexi purtroppo ma io veramente sono cioè quando un orologio mi viene proposto chiaramente deve costare meno del vetro zaffero col vetro plexi ma a me mi sta anche bene cioè lo speedmaster l'ho preso col vetro zaffero perché nuovo di pacca moderno lo voglio col vetro zaffero se posso scegliere ma altrimenti come i vostri che prima che hanno il vetro plexiglass di anfibia no? o questo qua ben venga ben venga sono contento riesco ad apprezzare anche il vetro plexiglass certo tra tutti quello meno interessante è il vetro minerale perché non ha né il sapore vintage del plexiglass né le caratteristiche tecniche dello zaffero è un po' una via di mezzo però se l'orologio mi piace mi prendo anche l'orologio col vetro minerale e se il vetro si graffia fra vent'anni lo cambierò se mi gira o se non lo otterrò per sempre graffiato e ben venga problemi zero storicità e molto sapore vintage secondo orologio che volevo presentarti questo Hamilton Marf 42 mm io sono riuscito a comprarlo appena uscito e quindi ancora adottato della scatola in edizione limitata quella a tesseratto per cui anche collezionisticamente non è proprio uguale a quelli attualmente in commercio diciamo poi e altra volta non te l'ho presentato questo T-Sort Sistar con il Powermatic 80 43 scappamento in polimeri plastici autolubrificanti a differenza dell'Hamilton di prima ma non ha il silicio io l'ho diciamo equipaggiato con questo cinturino in gomma perché l'avevo comprato maglia milanese ma in realtà risulta molto scomodo al polso il suo cinturino maglia milanese è un po' grande però in estate mi piace metterlo soprattutto al mare e credo che rispetto alla nuova versione più piccola quella da 40 mm si differenzi per questo modo particolare tipico di T-Sort di applicazione degli indici quindi questi indici che sembrano sospesi attaccati al reo che invece non c'è nella versione appena uscita ok 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 di diametro ridotto bello bello ora fermo perché mi hai detto non è presente il silicio come se fosse una malattia capito cioè casomai la spirale in silicio è a magnetica per me è un vantaggio come c'è il nivacro cioè è semplicemente un materiale con cui hanno realizzato la spirale che è un filo di capello attorcegliato dentro un bilanciere che cosa ti cambia se è in nivacro se è in silicio se è in carpazio delle montagne non cambia niente nel momento in cui uno dovrà fare la riparazione va a cambiare bilanciere spirale intera cambia tutto e rimette tutto oppure cambiano direttamente il calibro quindi cosa te ne frega se c'è il silicio poi hai detto lo scappamento è materiale plastico polimerico autolubrificante che sembrava una roba spaziale della NASA alla fine poi sappiamo che è plastica niente di male cioè per l'amore di cielo non ci trovo niente di male però cerchiamo di non esaltare troppo certe cose e di affossarne altre quando c'è semplicemente una media da fare no? un altro orologio che tengo molto che è molto particolare questo squale 1521 lo hai già portato sul finale questa è un'edizione limitata a 30 pezzi che avevamo fatto con un gruppo d'amici e l'unico difetto di questo orologio è che avevamo chiesto a squale di farlo senza data e quindi manca la finestra data è un no date ma il movimento ha ancora lo scatto data fantasma e vabbè ci si passa sopra perché io lo trovo ma sì davvero bellissimo con questo quadrante i solei sono un po' un po' degli escamotage per far prima no? l'orologio senza data compro la corona con lo scatto data e lo so io ci passo io ho anche il caramai MC32 che è così interessa niente va bene o poi ha cambiato adesso non ce l'ha più lo scatto data fantasma oppure ultimamente cosa ho recensito lo zodiac 961 che c'è lo scatto data fantasma anni fa ho recensito un mido cioè qualsiasi casa c'ha questo piccolo scivolone magari c'hanno quei calibri lì a disposizione il gruppo swatch che c'abbia a disposizione la vedo dura però non ci pensano dicono va bene senza data anche se c'è lo scatto data noi appassionati stiamo a vedere un po' tutto ma devo fare un discorso un po' particolare questo è un Christopher Ward Super Compressor C65 e si parla sempre bene di Christopher Ward io però devo parlarne un po' male come vedi la scritta Super Compressor è disallineata rispetto ai 150 metri di profondità cosa è successo? Christopher Ward aveva sbagliato la stampa dei primi lotti di quadranti li ha messi in commercio perché non se ne era accorta e poi li ha ritirati gli orologi con il difetto di stampa sono poi stati messi in vendita sul loro sito con un forte sconto ma senza effettivamente dichiarare nella sezione che usano anche per vendere gli orologi ricondizionati dopo che fanno il reso ma senza dichiarare questo difetto e quindi vabbè è arrivato così è stato amore prima vista l'ho tenuto però insomma non ho molto apprezzato la cosa avrei gradito che mi fosse detto nelle specifiche e invece quando poi ho contattato il servizio clienti mi è stato detto ma dal render si vedeva quindi ecco quindi dal render si vedeva sì non è un bel comportamento è più corretto scriverlo guardate questi qua sono venuti con il quadrante così il quadrante non è che lo fa Christopher Word lo fa il quadrantista che è un'altra azienda a loro gli arrivano i quadranti poi da assemblare e quelli che fanno il controllo qualità ma anche solamente in fase di assemblaggio uno ragazzi un'occhiata dategli la c'è tutto dritto no ci sono i vari passaggi a uno gli può capitare di vederli che sono storti ne sono passati un bel po' perché un lotto intero lascia un po' eh ti fa un po' pensare sì sarebbe stato più giusto che ci fosse stato scritto sono quelli provenienti da quel quadrante chi li vuole a sconto e io lo prendo lo prendo uguale cioè le cose dire la verità non si sbaglia mai tanto se uno lo deve comprare l'orologio lo compra tanto più che è un per me per me una volta che lo sai è un valore aggiunto adesso che lo sai no è un valore aggiunto cioè brutto sarebbe se fosse se fosse uno su un milione che ti è capitato l'unico storto a te dici oh è un difetro siccome invece puoi raccontare tutta la storia dietro cioè tutta una retro story cioè hanno fatto una serie di quadranti sbagliati l'hanno messo in copergio poi l'hanno ritirati e io ce l'ho hai capito ha un senso quindi se io fossi in te non mi lamenterei più di tanto e poi come ora ho fatto l'esempio dello scatto del fantasma della corona dell'MC72 di Calamai io scherzo scherzo io ho uno di quelli della prima serie che avevano ancora lo scatto dato fantasma ma io ce l'ho me la gioco così ma sono anche convinto non è che me la gioco per fregare dagli altri sono anche convinto beh mi sta bene lo stesso te accettalo secondo loro avrei dovuto ingrandire il render guardare il render controllare l'allineamento e non su un orologio di fatto nuovo aspettarmi che mi dicessero i difetti eh certo non mi aspettavo di certo un orologio nuovo sapevo che l'avevo preso dalla sezione e con uno sconto ma almeno che mi si dicessero i difetti come fanno su altre volte come hanno fatto altre volte tutto questo il fondello mostra la particolarità della cassa super compressor quindi dietro questo anello in alluminio dovrebbe esserci la molla che poi permette la compressione della cassa e quindi l'aumentare dell'impermeabilità l'aumentare della pressione bello 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 orologio tirlo così un altro microbrand Werenbach purtroppo questo microbrand ha appena chiuso i battenti credo ma la particolarità di questo orologio è che il quadrante è ricavato dal materiale dei razzi Soyuz con cui sono stati mandati in orbita gli astronauti sulla stazione internazionale l'ISS quindi ogni quadrante è diverso perché essendo tratto da una mattonella di razzo riporta piccole imperfezioni e non è mai uguale all'altro questo davvero è un orologio che è stato quasi nello spazio e ho scelto questa versione perché con la bug interna comanda una scala particolarissima che è quella per verificare lo stato di lancio del missile e quindi tu lo imposti e ti fa vedere stacco del primo settore stacco del secondo settore stacco del terzo settore orbita stadio si chiamano stadi non settori gli stadi del missile con la corrispettiva dell'altitudine il calibro tra l'altro è stp 1.11 11 da ultimo e qui vediamo se sai aiutarmi dirmi quel cosiddetto un apposto impulsivo un longin chuck che ho preso un'asta su instagram facendo un atto decisamente impulsivo e di cui non so molto anche perché avendo una cassa monoblocco non ho potuto aprirlo per verificare il movimento placato oro 34 mm quadrante diviso settori quindi dovrebbe chiamarsi sector dial se non erro e lo trovo molto particolare magari sei di dirmi qualcosa di più su questo insomma ciao davide un saluto a tutti gli amici del canale del canale ciao no lo so sector dial sono quelli che hanno il quadrante diviso nel senso circolare fasce circolari non così crociato a croce chak longin chak sinceramente non ho mai sentito dire ragazzi non è che si può sapere tutto nella vita eppure c'è scritto chak dietro inciso cassa monoblocco tutta in oro no non lo so eppure mi sembrerebbe anche originale a vederlo così a vederlo così il quadrante abbastanza cioè datario non ho la più pari idea non so aiutarti mi dispiace quando io risalgo a qualcosa su longinia perché mi metto a studiare perché faccio delle ricerche perché ho l'orologio magari in mano faccio delle ricerche anche lunghe e poi riesco a raggiungere a un concetto qualcosa qua così da una foto fatta così da un video fatto così al volo senza nemmeno il fondello no no non so assolutamente mi dispiace per il resto invece la tua collezione è di un bel sette e mezzo un bel sette e mezzo perché anche te si sente che sei un gran bello appassionato hai degli orologi di tutto rispetto una menzione particolare a Christopher Ward che fa dei begli orologi ora al di là del fatto che sul quadrante ci sia la scritta un pochino disassata ma il comportamento dubbio lì farò dei begli orologi ne vale la pena poi il resto cos'erano il Marf il Tissot lo Squale tutti i orologi tutti i orologi decenti poi quel microbrand di Werenbach si che facevano dice che ha chiuso ha chiuso diventerà come quei marchi scomparsi svizzere che c'erano centinaia no succede selezioni naturali anche tra i microbrand attuali come tra quelli degli anni 60 70 perché quello erano ci sarà la selezione naturale qualcuno andrà avanti qualcuno diventerà famoso qualcuno diventerà morto questo qua se me lo dici te e facevano utilizzavano l'acciaio delle Soyuz lì ora questo è un po' come Calamai usa l'acciaio delle turbine dei caccia questo cosa ti fa pensare anche in questo caso che per fare questo vuol dire che le casse le facevano realizzare in loco non so da chi non so dove non so come non perché ma non è che sono casse che puoi comprare dal produttore in Svizzera o in Cina o a Hong Kong o in Germania cliccando mandami 20 casse fatte così no vuol dire che queste qua se gli devi portare l'acciaio per farle fondere era una roba un pochino più ricercata no al di là del fatto che a me se sono morti scomparsi non mi tange perché per me è un marchio dimenticabile non che farò oggi voluti però a volte mi domanda come si possono spendere dei soldi in microbrand così sconosciuti che insomma ha voglia di fare le prove va bene ma vero e bac ok contento te contenti tutti l'orologo ce l'hai non mi sembra nemmeno fatto male stp111 calibro di fornitura che pare avesse avuto all'inizio dei problemi di lubrificazione che arrivavano secchi arrivavano ora non c'è più l'111 non c'è più c'è l'121 che lo fanno con 95% di parti in Svizzera quindi dovrebbe essere un pochino più meno a rischio mancanza di olio dai ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua direi di farla finita qua perché io devo andare a vedere i gattini su Instagram è una priorità io la scimmietta li guardiamo e si diverte anche lei vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love e vi ringrazio